...di vicenda, conquistando lo sesto scudetto della loro storia. Facciamo un grosso applauso alla Sala Occhi 1935. E ora, poi sappiamo tutti in ordine di ruolo. I portieri, Luca Stavano, Frederic Gutier e Gianluca Fallini. I difensori, Francesco Conte e Enrico Miglioranti, Loretto Cassetti, Camaraginetti, Phil Petronio, Charles Petronio, Alex Geller, gli attaccanti, Luic Caponuso, Steve McFarland, Simone Olivero, Davide Dalsasso, Matteo Pessari, Michele Stefano, Vincere lo Schiavo, Malek Magnus, Edoardo Lierme, Marco Rosa, Mario Euseppe Mosco e il capitano Federico Benetti. E ora, l'allenatore per le macchie, con lo staff tecnico, Riccone Tessani, Riccone Pantonella, Maurizio Belloni e Simone Rigoni. Facciamoli un grosso, grosso applauso! Un gesto, vicinata alle due società, con il presidente dell'Asia Comunica, e il Pierre Gabriel Battomani, che consegna al direttore generale dell'Anne Rossi Vicenza, Paolo Benin, una baglia dell'Asia Comunica, e il Nane Rossi consegna loro una baglia per la Corsa. Ora, invitiamo tutta la squadra dell'Asia Comunica, ad andarsi a prendere un meritato applauso, Siete Lacuba! La Corsa, ragazzi, Vieno! Grazie al campione d'Italia! Buongiorno a tutti, ragazzi! Un altro grande applauso a tutti i Stadio Menti! Buongiorno a tutti i Stadio Menti! Buongiorno a tutti i Stadio Menti! Grazie a tutti i Stadio Menti!